E' in ripresa il mercato immobiliare in Emilia-Romagna, a confermarlo sono i numeri dell'osservatorio di Casa.it relativi ai primi due mesi del 2017. A febbraio la domanda di abitazione in regione è cresciuta del 5,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i prezzi confermano il processo di stabilizzazione più 0,7% già evidenziato nei mesi scorsi, con un valore medio di 1.780 euro metro quadro. Il budget a disposizione delle famiglie per l'acquisto è di 142.400 euro, poi uno sguardo ai capoluoghi per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni in offerta sul mercato. A registrare il segno positivo sono Bologna, più 1,7%, seguita da Cesena, Ferrara e Reggio Emilia. Sono invece in Cali i prezzi a Piacenza, meno 1,5%, Ravenna, meno 1,1% e Modena, meno 0,8%. Stabili i prezzi a Parma, Forlì e Rimini. Bologna, 3.050 euro a metro quadro e Rimini, 2.800 euro a metro quadro sono le città più care, mentre Ferrara con 1.650 e Reggio Emilia, 1.750 sono le più economiche. Uno sguardo anche alle altre città della nostra regione. A Parma il costo è di 2.100 euro a metro quadro, a Modena 2.000, a Cesena 1.980, a Ravenna 1.950, a Forlì 1.900 e a Piacenza di 1.850 euro a metro quadro. Nei primi due mesi dell'anno, dunque tra gennaio e febbraio, la domanda è cresciuta in tutte le città della regione del 5,7%, seppure con valori variabili. Le più dinamiche risultano Bologna e Parma, seguono Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Piacenza, Ferrara e Modena, secondo Casa.it, i dati positivi dei primi due mesi del 2017. Confermano che la spinta propulsiva della domanda manterrà vivace il mercato delle compravendite in Emilia Romagna, anche per tutta la prima parte dell'anno.